Il professor Giovanni Dessi è docente di storia del pensiero politico contemporaneo all'Università Tor Vergata di Roma, ma qui è in veste di responsabile dell'area ricerca dell'Istituto Luigi Sturzo, istituto che si occupa di aziende di valore perché ha dato vita ad un archivio che si chiama Archivio della Generatività Italiana che inserisce appunto le aziende di valore, fra le quali ad esempio la Luccioni di Ancona di cui parleremo fra poco. Allora io vorrei sapere innanzitutto da lei cosa si intende per l'archivio della Generatività Italiana? L'idea in sostanza è molto semplice, cioè di fronte a una narrazione della nostra realtà nella quale prevale il racconto di eventi sicuramente non positivi, ma anzi negativi, l'idea semplice è che in Italia ora ci sono esperienze che invece producono valore economico, culturale e morale. L'idea dell'archivio nasce dalla collaborazione tra l'Università Cattolica di Milano, l'Almed e l'Istituto Sturzo. Una persona in modo particolare, un caro amico Mauro Magatti, credo che abbia intuito questa categoria, riprendendola da un psicologo statunitense. Ma l'idea centrale appunto è che si può raccogliere, mettere insieme, individuare quelle realtà che oggi in Italia producono valori. Questo in modo molto semplice, attraverso un primo momento di ricerca su tutto il territorio, dalla Sardegna alla Valle d'Aosta. Adesso sono più di 100 casi che sono presenti in questo sito che abbiamo realizzato appunto Sturzo. Più di 100 casi. Più di 100 casi, in cui c'è un'intervista, alcuni criteri, dei racconti di come una realtà sociale, istituzionale, no profit è generativa. Ma quando un'azienda diventa generativa? Ci sono diversi criteri. Uno primo è che appunto più di fondo, che esprima un'idea di libertà che non è solo la competizione o solo il mercato o solo l'affermazione, ma un'idea di libertà che ha a che fare con la responsabilità di fronte al territorio, di fronte al lavoro, di fronte ai propri dipendenti. E' come se questo fosse il criterio a mio avviso fondamentale, cioè passare da un'idea di libertà che oggi è esageratamente presente ovunque. La libertà è fare ciò che si vuole, a un'idea di libertà come responsabilità. Lei ha sentito le prime due storie che abbiamo raccontato qui a Siamo Noi, Dancona e adesso la storia dell'Adriaplast. Io mi sembra di poter individuare, non ho un filo rosso che lega queste due aziende, l'attenzione alle persone. Si parte da lì. Questo diciamo che è un principio ineludibile. Quando dicevo generatività a che fare con responsabilità dicevo questo. Cioè questo psicologo Ericsson dice che ciò che caratterizza una persona adulta è la capacità di prendersi cura. Allora trasponendo questa che è un'analisi sociologica nella realtà, ciò che caratterizza un'azienda generativa, un'istituzione, una scuola. Perché per esempio qui a Roma abbiamo alcuni casi di scuole elementari che abbiamo inserito in questo, l'Adenonato per esempio a Piazza Vittorio, una zona abbastanza complessa di Roma. Ecco, lì per esempio che vuol dire prendersi cura? Vuol dire che la gente che è in quella scuola pensa a se stessa, alla propria attività come un confronto, un prendersi carico di quella situazione, delle persone di etnia diversa che per esempio frequentano quella scuola. Questo si può estendere a molti altri campi, ovviamente da imprese e dalla produzione alla ricaduola sul territorio.